ventitresima domenica del tempo ordinario gesù dalla regione di tiro passando per sidone venne verso il mare di galilea in pieno territorio della decapoli il contesto di questo vangelo e la terra pagana che si affacciava sul lago di tiberiade cioè noi siamo in quella zona vicinissima alla zona originaria di cafarna o di tutte le piccole città che videro la nascita dei primi discepoli che erano molto vicine a macchia di leopardo a zone completamente pagane noi non dobbiamo pensare a un israele unito tutto uniforme tutto quanto dello stesso colore cioè di religione ebraica no c'erano villaggi vicini dove c'era la religione ebraica e poi c'era la zona pagana e poi c'era un'altra zona ancora ecco in questa zona qui gesù fa questo miracolo la guarigione di un sordo muto è interessante perché in questo testo del vangelo di marco si fa riferimento a un rapporto della chiesa primitiva con i primi convertiti dal paganesimo e questa dimensione una dimensione evidentemente battesimale abbiamo mantenuto questo rito nel battesimo dei bambini quando bisogna toccare la bocca e l'orecchio del bimbo appena battezzato e si dice appunto questa parola è fatà apriti perché possa il bambino ascoltare la parola e professare la sua fede ecco quindi siamo a contatto con uno snodo un passaggio che è essenziale per fare il salto dalla vita umana alla vita dei figli di dio dalla vita che riceviamo dalla carne a quella che riceviamo dallo spirito in questo passaggio la guarigione di questo sordo muto è emblematica perché perché c'è un riferimento ad un processo assolutamente necessario per fare il salto dentro la vita nuova cioè la guarigione dei nostri sensi noi parliamo un po poco normalmente nella predicazione di questo aspetto che invece è di una importanza capitale vale a dire per poter entrare nella vita cristiana per poter vivere secondo il cielo abbiamo bisogno di una redenzione dei sensi la nostra vita interiore è mediata innescata dalle percezioni non c'è niente da fare se noi non abbiamo la capacità di ricevere le sensazioni attraverso appunto i cinque sensi noi non possiamo sviluppare una evoluzione interiore come potranno credere dice san paolo se nessuno annuncia la parola allora cosa vuol dire essere redenti essere redenti vuol dire fra le altre cose in primis ridimere le nostre percezioni perché ci sono occhi nuovi c'è un modo diverso di ascoltare di percepire di toccare di gustare che è assolutamente urgente perché io possa vivere secondo novità tante volte noi siamo di fronte alla grazia la grazia non la vediamo tante volte noi chiamiamo disgrazia ciò che è salvezza e salvezza ciò che è nostra disgrazia tante volte noi abbiamo rincorso cose da quattro soldi e abbiamo dato tutte le nostre energie per idolatrie per banaglorie per insulsaggini ecco come avere occhi per vedere avere orecchie per ascoltare abbiamo bisogno di vivere quello che vive questo sordomuto che appunto è emblematico innanzitutto gli portano un sordomuto e lo pregano di imporgli la mano cioè non ci arriva da solo siamo in terra pagana siamo nella regione della decapoli e ci vuole qualcuno che conduca ci vuole qualcuno che già conosce il signore ci vuole qualcuno che sia capace di trovare cristo e portargli le persone che hanno bisogno di essere visitate curate guarite da lui ecco in questo senso è molto importante che nessuno arriva a cristo da solo c'è sempre qualcuno che ci porta e quindi gesù lo prende in disparte ecco se siamo in una terra pagana ma anche questo atto gesù lo fa in terra non pagana abbiamo bisogno di essere tolti dall'ordinarietà tolti per un momento per tornare a quella ordinarietà con le nuove percezioni ma abbiamo bisogno di essere presi in disparte abbiamo bisogno di vivere una esclusività con il signore essere soli con lui allora lontano dalla folla cioè lontano dal mondo lontano dalla mentalità che ci circonda Gesù gli pone le dita negli orecchi e con la saliva gli tocca la lingua non sono gesti molto estetici sono gesti un po anche invasivi mettere le dita nelle orecchie di una persona soprattutto poi se questo qua è una persona che le orecchie non gli funzionano può essere un'invasività ripetiamo e mettere la propria saliva sulla bocca di un altro è una cosa che non è esattamente delle più presentabili ma questo è un linguaggio simbolico come guarisce questo orecchio come guarisce questa lingua hanno bisogno di essere toccati dalle dita di Gesù le dita di Gesù sono le dita di Dio in altri passi parleremo dello spirito santo come il dito di Dio e cioè quella cosa che può toccare e quella cosa che può indicare quella cosa che è la parte della mano che è l'opera di Dio le dita di Dio opera delle sue dita sono i cieli la terra cioè le opere di Dio perché le nostre orecchie si aprano dobbiamo iniziare ad ascoltare le opere di Dio e ancora la saliva di Cristo è la sua parola è ciò che è necessario perché lui possa esprimere la fonazione ecco la sua saliva sulla lingua di questo muto vuol dire che l'apertura del senso spirituale è quando iniziamo a dire la parola di Dio molto della nostra preghiera è fatto di parola di Dio i salmi tutte le orazioni vangeli le cose che noi proclamiamo nella preghiera è parola di Dio e piano piano la sua parola diventa la nostra parola e noi iniziamo a saper parlare quando le mie orecchie si riempiono delle opere di Dio e la mia bocca della sua parola io inizio a guarire e Gesù guarda verso il cielo e mette un sospiro ecco che arriva lo Spirito Santo e comanda ai suoi sensi di aprirsi dice è fatà apriti ecco è un'apertura i sensi vengono aperti da Cristo i sensi non ce li apriamo noi con la nostra razionalità non vengono redenti dalla nostra buona volontà ma dallo Spirito Santo se lo accogliamo ecco attraverso questo testo noi vediamo come possiamo essere portati alla guarigione come possiamo essere portati alla vita dove guardo e vedo l'opera di Dio parlo con parole che vengono da Dio ascolto e percepisco Dio che mi parla